Ben trovati agli amici di Primo Canale, situazione per la giornata di sabato, dopo il mal tempo di venerdì, clima uggioso, le precipitazioni, torna il bel tempo, ampia apertura del cielo dappertutto, cieli sereni o poco nuvolosi in giornata, anche se un po' di variabilità, a tratti non mancherà, venti ancora sostenuti, con mari mossi o molto mossi a largo. Ventilazione poi nella seconda parte del giorno in attenuazione. Imperiese con condizioni di bel tempo, una giornata abbastanza tranquilla, ampia apertura del cielo, temperature gradevoli sulle località di mare fino a 22-23 gradi. Uno sguardo poi a Savonese, condizioni anche qui di tempo relativamente stabile e tranquillo, con valori fino a 20 gradi a Savona. Per quanto riguarda la provincia di Genova, giornata relativamente stabile, un po' di variabilità sulle aree interne, localizzate piovaschi, massime di 20 gradi in città. Tiguglio, giornata relativamente tranquilla, tra sole, qualche annuvolamento di passaggio. La Spezia, giornata che sarà anche qui stabile, sulle aree interne, più variabilità per correnti umide, localizzati piovaschi. Giornata di domenica che si presenterà con un po' di variabilità sullo spezzino, potrebbe esserci qui originarsi qualche breve piovasco, meglio altrove con maggiori aperture del cielo. I venti ancora un po' vivaci con mari mossi. Le temperature sulle località di mare saranno comunque piacevoli attorno ai 20-23 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti li trovate sull'app gratuita di Trabi Meteo visitando gli articoli sul nostro sito web.